Il tuo giorno sta per arrivare, preparati. Monta su quel cavallo e vattene. In un paese senza legge, 75 al mese, più 2 dollari e 50 sense per ogni arresto. La giustizia. Ci sarà una sparatoria? Credo proprio di sì. È una questione personale. Vi conosco, quelli della vostra specie. Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, per il ciclo C'era una volta al Western, Wyatt Earp. Martedì alle 21 con Iris.